I have a dream that one day... di Romney. Vediamoli velocemente. Primo punto, rilancio a toppe forzate della leadership americana nel mondo, dopo la grave cedevolezza e debolezza del drama. Secondo punto, ritorno dei Neocon e del Project for the New American Century alla Casa Bianca e al Dipartimento di Stato. Taglio del 20% delle spese destinate alla presenza diplomatica degli USA nel mondo. Aumento del 39% delle spese militari. Recupero del rapporto preferenziale con l'Inghilterra. Italia alleato utile ma complementare. Musoduo con Russia e Cina. Considerate nemiche politiche, militari ed economiche. Pugno di ferro contro Iran e Siria. Ogni opzione è utile a riportarli all'ordine. Difesa a spada tratta di Israele. Nessuna concessione all'autorità palestinese. Politica estera, quale strumento di espansione a 360 gradi degli interessi economici USA. E dopodiché quindi manca, appunto, rileviamo al secolo, al XIX, i forni crematori. Teleriva, docceriva, una televisione utile e politica. I have a dream that one day... I have a dream that one day... Grazie a tutti.